Ecco, è appena finita la partita, CFS Vitoral finita il Damen frutto a più Verona, il CFS Vitoral ha vinto anche la sua undicesima partita consecutiva, forse la più importante, 3-2. Luca Dallatore, presidente del CFS Vitoral, a questo punto cosa diciamo? Si sogna? Ma intanto una piccola parola che è un elogio alla squadra, al gruppo che siamo riusciti a formare, grazie anche a te come vicepresidente, con il gruppo, con la società, oggi la squadra ha dimostrato di avere veramente carattere, abbiamo terminato il primo tempo subendo due gol forse abbastanza così casuali, la squadra è entrata in campo, non si è agitata, è entrata tranquilla, ha cominciato a giocare, ha dimostrato che sa giocare, bene, io credo che oggi possiamo cominciare a dire che la squadra è orientata a un campionato di serie maggiore, sì. Complimenti comunque perché vittoria voluta, vittoria cercata, vittoria poi cercata soprattutto sul campo, cercata proprio con le giocatrici, oggi Ruth Varga, devo dire, parte il secondo gol che ha fatto, ma grande, grandissima. Lei è una grandissima giocatrice, indiscussa, credo che sia una giocatrice che piacerebbe a tante squadre, però io menzionerei veramente anche le altre ragazze e forse in primis è la Tonelli che dalla prima partita, è sempre bello parlare della squadra generale, però bisogna fare un applauso a questa ragazza che dalla prima giornata non ha sbagliato una partita, davanti, grazie a lei e al suo contributo siamo riusciti a ottenere ottimi risultati e non dimentichiamo una grande difesa, una grande Mario indietro. Grazie Luca.